Il tema migranti è sempre di stretta attualità, fondamentale non lasciarli soli, tutelarli soprattutto sul piano della salute. Non di rado capitano situazioni critiche, ma proprio per questo è necessario metterli nelle condizioni migliori anche per una futura integrazione nel contesto sociale in cui si troveranno. Si è parlato di questo al Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, nella tavola rotonda proposta da Medici con l'Africa, QAM, in collaborazione con la Regione Puglia e l'Università di Bari. È possibile prima di tutto garantire l'accesso ai servizi sanitari essenziali a questa popolazione, che è una popolazione emarginata, che ha delle problematiche sanitarie rilevanti. È possibile l'integrazione nel sistema sanitario locale. È fondamentale il coinvolgimento di tutti gli attori. Al centro del confronto, il modello di accoglienza sviluppato dalla Regione, il contributo dato da Medici con l'Africa, QAM, Bari, assieme alla stessa Università, riconosciuto lo scorso marzo dall'OMS come una delle 49 best practice nel campo della promozione della salute delle popolazioni migranti e rifugiate, supporto sanitario dunque, ma anche psicologico e di mediazione interculturale. Fondamentalmente io credo che sfuga il fatto che la gente che arriva, che migra, non è una minaccia, non è un problema ingestibile, ma è solamente una questione di gestire adeguatamente quelli che sono altre persone, altri esseri umani, e popolazioni che comunque contribuiscono alla società e alla vita nel posto dove loro arrivano, dove loro approdano.